È stato un Natale di fuoco per i conducenti NCC che continuano la protesta contro il decreto di esposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre scorso. Confermato infatti per il 27 dicembre un nuovo sit-in nazionale, questa volta a Piazza della Repubblica, chiusa al traffico e blindata dalle 14 alle 18. Presenti in piazza i rappresentanti di categoria di Anitrav, Fita CNA NCC, Fai TP e Federnoleggio. Ma agiremo anche in sede legale, fa sapere tramite l'AGI il Consigliere nazionale di Anitrav, Giulio Aloisi, nei confronti del Ministro dei Trasporti Danilo Torinelli e della parlamentare Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, per le loro dichiarazioni a favore della categoria dei tassisti, apertamente appoggiata dal Movimento e dal Ministro, che già lo scorso anno twittava come i grillini sostenessero la categoria dei tassisti e attaccava invece il PD, reo di difendere gli interessi di multinazionali come Uber e appunto gli NCC. E sempre sui social si è scatenata l'ennesima bagarre tra conducenti con oleggio e Toninelli, a cui il post della foto con famiglia per gli auguri di Natale è costato molto. Intasata infatti la pagina è di relativo post, con commenti e reazioni. I punti caldi della protesta restano in particolare la questione sul ritorno in rimessa dopo ogni servizio, per ora rimandata con una deroga, prevista però solo se nel foglio di servizio già risultano indicate più prenotazioni oltre la prima. Rabbia inoltre per i due anni di stop a nuovi contratti per chi opera con società in altri territori, stipulati fino a 15 giorni prima dell'entrata in vigore della manovra. Stop inoltre a due anni al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo archivio informatico pubblico nazionale, dove dovranno essere registrate anche le licenze dei taxi. Punto quest'ultimo che i conducenti con noleggio vedono come un affossamento della categoria. Alle 17 inoltre una delegazione lascerà la protesta prevista a Piazza della Repubblica per portare direttamente al Curinale un'istanza rivolta al Presidente Mattarella, affinché non apponga la firma su un decreto ritenuto per varie ragioni incostituzionale.